Pronti a immergervi in una vicenda che ha scosso le fondamenta stesse dell'amicizia? Oggi, ci addentriamo nel cuore pulsante della casa più spiata d'Italia, dove un legame sembrava indistruttibile, fino ad ora. Vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se un'amicizia, nata e cresciuta sotto gli occhi di milioni di spettatori, dovesse inciampare sull'ostacolo più inaspettato? Restate con noi, perché quello che sta per svelarsi tra Perla e Letizia è qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di lasciare un like se siete ansiosi di scoprire come si evolverà questa storia. In una serata come tante altre nella casa del grande fratello, l'armonia tra Perla e Letizia, amiche inseparabili fino a quel momento, ha subito un duro colpo. La decisione di Perla di condividere il letto con Greta, un tempo rivale in amore, ha acceso la miccia di un conflitto inatteso. Letizia, travolta da un'ondata di gelosia e incomprensione, ha visto vacillare i pilastri della loro amicizia. Mi succedono sempre queste cose, ha confidato Letizia. Do troppo e alla fine rimango sola con il mio dolore. La tensione è palpabile, le parole pesano come macigni, e ogni tentativo di chiarimento sembra allontanarle ancora di più. Perla, da parte sua, sperava che il tempo potesse lenire le ferite, ma ogni silenzio sembra ora un abisso che le separa. Non volevo che diventasse una tempesta in un bicchie d'acqua, ha ammesso, ma forse il danno è già fatto. E voi, riuscite a sentirlo? Quel sottile fruscio? È il suono dell'amicizia che si incrina, sotto il peso delle incomprensioni e dei silenzi non detti. Cosa ne pensate? Amici, avreste agito diversamente? Mentre la notte avvolge la casa del grande fratello, le domande rimangono sospese come stelle in una notte senza luna. Cosa riserverà il futuro per Perla e Letizia? Sarà la fine di un'amicizia o l'inizio di un nuovo capitolo, magari ancora più forte di prima? Solo il tempo potrà svelarci il destino di questo legame. Vi invitiamo a riflettere. Cosa significa realmente l'amicizia in un contesto così unico e sotto pressione come il grande fratello? Lasciateci i vostri pensieri nei commenti. E se non volete perdervi gli sviluppi di questa ed altre storie appassionanti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Fino alla prossima volta, ricordate, nel gioco dell'amicizia, a volte, le prove più dure possono rivelare i legami più autentici.